Perché leggi? Io leggo perché leggendo si imparano molte parole nuove. E voi ragazzi perché leggete? Io leggo perché è bello e divertente. Io leggo perché è sapere e potere. Io leggo perché vi dà un senso di libertà. Aiutaci anche a far crescere la nostra biblioteca. Da sabato 20 fino a domenica 28 ottobre vai alla libreria Copp e chiedi di sonare un libro per la nostra scuola. Io leggo perché partecipa con me.